Pene, 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 pene. Benvenuti e bentornati amici e fenauti, siamo arrivati alla fine di questo 2023 e non sono riuscito personalmente a trattenermi per farvi gli auguri personali per il nuovo anno, ovviamente insieme a tutti quanti gli amici del nostro collettivo di F4. Vi prometto però che essendo proprio l'ultimo dell'anno questo sarà un video velocissimo che non vi distoglierà assolutamente dal cenone e dai festeggiamenti che meritiamo tutti quanti. Parliamo ovviamente anche oggi di street photography, però lo voglio fare con un taglio un po' diverso, perché non parlerò esattamente di fotografia, ma di un concetto un po' più importante che ha ispirato la creazione di questa community di F4 e che influisce anche profondamente sulla nostra vita quotidiana, sulle decisioni che prendiamo anche, ma sui nostri comportamenti e naturalmente su tutto quanto il nostro modo di pensare. Questo concetto è noto un po' come bias della sopravvivenza. Il termine bias risale al latino con il significato di obliquo, inclinato e l'etimologia di questo termine è perfettamente in linea proprio con il suo significato. È una sorta di percezione distorta o errata dalla realtà, spesso fondata su pregiudizi e delle ideologie. Nella nostra vita quotidiana ci affidiamo a questi bias per prendere delle decisioni in maniera rapida, ma a volte però questo avviene a discapito proprio di una comprensione accurata e obiettiva della realtà. Questa tendenza a giudicare e decidere basandoci anche su quello che ci circonda ci può portare a convincere noi stessi e spesso anche gli altri che la nostra visione delle cose sia quella giusta, sia l'unica corretta. Però in realtà quante volte ci siamo fermati a chiederci se le nostre convinzioni siano realmente fondate. Mi voglio spiegare un po' meglio e lo faccio raccontandomi una storia, sennò che cazzo di video di fine anno sarebbe se non vi raccontassi una storia. E così era esattamente il 1943 quando l'aeronautica militare americana era alla ricerca di un modo per ridurre un po' le perdite dei propri aerei durante le missioni di bombardamento in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Il matematico e lo statistico Abram Wald fu chiamato a consulto per un problema che sembrava apparentemente semplice, cioè aggiungere un'armatura agli aerei per proteggerli proprio nei combattimenti. Mentre l'aeronautica era incline a corazzare le parti più colpite degli aerei, Wald invece suggerì esattamente l'opposto, cioè rinforzare le aree degli aerei che non erano danneggiate, deducendo proprio che erano quelle le parti più colpite dagli aerei. Questo cambiamento di prospettiva ha salvato innumerevoli vite e offre anche però una lezione preziosa, e cioè che le informazioni che mancano spesso ci danno le decisioni migliori. Il bias della sopravvivenza ci insegna che abbiamo la tendenza a concentrarci sui successi ignorando i fallimetti. Questo ci porta a trascurare le storie di chi non ce l'ha fatta, per esempio, di chi ha fallito nella vita. Eppure proprio da queste storie, cioè di chi ha fallito, possiamo imparare delle lezioni che sono molto più importanti. Oppure Bill Gates, che spesso vengono citati proprio per il loro successo straordinario, nonostante abbiano abbandonato i loro studi al college. Da qui potremmo essere tutti quanti un po' tentati dall'idea che l'istruzione formale non è importante, però in realtà ignoriamo tutte quante quelle persone che hanno preso delle decisioni simili, però senza raggiungere il successo. Perciò impariamo a riflettere su come il bias della sopravvivenza influenzi non soltanto le nostre grandi decisioni della vita, ma anche la nostra percezione della quotidianità. Nella street photography, per esempio, potremmo essere tutti quanti un po' portati a emulare lo stile di fotografi famosi, oppure sedicenti maestrini, considerandoli tutti quanti dei buoni modelli di successo. Però è importante guardare anche oltre, esplorando un vasto numero di lavori e varietà di fotografi, compresi quelli meno conosciuti oppure addirittura che hanno fallito, per sviluppare proprio una visione più completa e personale dell'arte e della fotografia nello specifico. Vi avevo promesso un video veloce, però prima di augurarvi un buon 2024 mi concedo un'ultima digressione che in assoluto però mi ha permesso di creare questa community come fosse il posto che io stesso avrei voluto frequentare nella vita, e cioè il posto più bello del mondo. L'essere umano, infatti, per sua natura, è intrinsecamente legato agli altri attraverso una fitta rete di influenze reciproche. Come dice quel mattacchione di Jim Rohn, siamo l'esatta media delle cinque persone che frequentiamo di più nella vita. Questo concetto che in realtà aveva già anticipato un altro personaggio molto famoso, cioè Goethe, con il suo celebre detto dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, pone l'accento proprio sull'importanza delle compagnie che frequentiamo. Ed ecco perché è nato F4. Esplorando proprio le ragioni di questo fenomeno, possiamo fare riferimento alla teoria dei neuroni specchio, per esempio, che suggerisce come il nostro cervello risuoni e apprenda dai comportamenti esterni. E allo stesso modo anche la legge dell'attrazione suggerisce che i nostri pensieri attraggono delle esperienze che sono corrispondenti. E per esempio questo vuol dire che circondarsi di persone che si lamentano potrebbe portarci a vivere di più la negatività, mentre invece relazionandoci con degli individui molto più ottimisti ci può sicuramente rendere migliori. Circondandoci per esempio di persone che inventano vangeli sulla fotografia potrebbe portarci a credere che fotografare la luna come Valerio Minato sia soltanto un esercizio di stile e privo di contenuto, mentre invece circondarsi di persone meno intransigenti e meno intolleranti potrebbe indurci a guardare l'arte con molta più ammirazione. Ecco, l'auto osservazione, la riflessione critica su come le relazioni influenzano i nostri comportamenti, i nostri gusti, le nostre credenze, possono essere dei grandissimi strumenti molto potenti di crescita personale. E quindi ogni interazione modella in qualche modo il nostro atteggiamento mentale, riflettendo convinzioni e comportamenti del nostro sistema relazionale. Nella street photography, per parlare della nostra passione comune, non dimentichiamo mai che anche l'ambiente urbano e le relazioni che intratteniamo possono influenzarci durante le nostre sessioni di scatto. E da qui emerge proprio l'importanza di saper scegliere in maniera consapevole anche il nostro ambiente e tutte quante le nostre compagnie, sia nel mondo reale ma anche nel mondo virtuale. Anche i social media, per esempio, che spesso sono visti come degli elementi distorsivi, parliamo di Instagram, parliamo di YouTube, parliamo di Facebook, di Vero, possono diventare però degli strumenti di crescita e di cambiamento se vengono utilizzati con intenzione e con consapevolezza. E io infatti ho scelto tutti quanti voi. Come fotografi e osservatori possiamo ma dobbiamo anche scegliere di circondarci sempre di ispirazioni che riflettono quello che noi vorremmo diventare. E come di solito sono andato lungo anche questa volta, però vi invito a riflettere su chi sono le persone e su quali sono gli ambienti che scegliete di frequentare, su come influenzano la vostra vita e anche la vostra visione artistica e personale. Non dimenticate di mettere like al video se vi è piaciuto, commentare e ovviamente condividerlo. Seguite il canale per altri approfondimenti alla Street Photography perché il 2024 sarà più ricco di contenuti rispetto a questo 2023 perché vi meritate veramente ogni vostro desiderio. ciao e alla prossima settimana.